Sono Laura Farinelli, sono ricercatore al Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino e oggi sono venuta a fare un breve intervento in cui voglio dire che iscriversi a una facoltà tecnologica come ingegneria non vuol dire abbandonare tutte le altre eventuali passioni che uno ha nella vita. Per esempio se uno ha un lato artistico dell'anima può anche cercare, sia quando studia sia dopo, di mettere questa passione a frutto e per esempio cercare un percorso di studi perché in ingegneria c'è in cui si esalta l'interdisciplinarità. Noi abbiamo molti percorsi interdisciplinari sia con la medicina, ingegneria biomedica, ambiente territorio e anche ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione che sta un po', sembra una cosa strana, ma è un po' metà tra scienza della comunicazione in cui si impara anche il linguaggio del cinema, dei media, il marketing, la pubblicità e anche tutta la parte tecnologica che serve di informatica o di elettronica per andare poi a lavorare in questo settore.